Anche al pubblico ospite, passiamo alle informazioni Per la Junior Casano, con il numero 16, Vito Corio Con il numero 8, Umberto Cianoccaro Con il numero 17, Leonardo Casatis Con il numero 23, Zeiko Beharic Con il numero 6, Paolo De Santis Con il numero 99, Francesco Rubino Con il numero 11, Flavio Messina Con il numero 10, Giancarlo Costaggio Con il numero 5, Pasquale Maione Con il numero 15, Bruno Bertic Con il numero 32, Mattio Cedro Con il numero 21, Robert Pino Pagano Con il numero 7, Danio Alcona Con il numero 62, Andrea Osturi Aledatore Francesco Alcona Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.